Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Iniziamo parlando di nuovo della protesta degli agricoltori che va avanti per quello che riguarda la Valdichiana. Siamo al quarto giorno. Ancora oggi caroselli e blocchi al casello della A1 di Bettolle ma adesso la tensione comincia davvero a salire. Intanto devono abbassare il gasolio in primis perché il gasolio alle stelle così non è fattibile. Secondo le cose da fuori dagli altri stati da noi non le devono importare. Perché l'Italia avrebbe la terra per produrre tutto quanto, i cereali per il pane, per la pasta, senza che si va a prendere in Russia perché c'è motivo. La protesta degli agricoltori corre sulle strade della Valdichiana, Aretina e Senese. Questo ragazzo alleva chianine. Il rischio è di vedere scomparire le eccellenze italiane. La carne ha subito un calo crastito della chianina, noi due che si alleva la chianina. Oggigiorno non si sa se conviene tenere i vitelli per ristallarli e fare il vitellone, lì nella vacca vitello, per poi macellare oppure dire chiudiamo tutti quanti tanto c'è la carne sintetica, grilli e niente. Il futuro non è così. E allora di nuovo i caroselli, i blocchi del casello A1 di Bettolle, ma ora la rabbia è maggiore. Gli agricoltori, gli allevatori ci raccontano di un prodotto di qualità, quello italiano, svilito dalla politica dei prezzi che nessuno di loro decide e intanto le aziende chiudono. La luce, l'acqua, il telefono anche a casa, le nostre famiglie, con cui le manchiamo. Un chilo di pane costa come minimo 3 euro, a voi quanto ve lo pagano? Anche più costa. Noi un quintal di pane 20 euro, 19 euro, a oggi diciamo. Se che il guadagno... E' fortunato, anche più fortunato. Se no anche meno. Se no anche meno. Ci sono le 1200 euro per lavorare un metro di terra. Eh, purtroppo, per fare lavori fatti un po' alla meglio, diciamo, ci sono quelle cifre lì. Se che non portiamo a casa niente. Nessuno è contro questo governo, ci spiegano, ma il ministro ci deve ricevere per ascoltare il grido delle nostre aziende e delle nostre famiglie. Nel fine settimana sono attesi circa 400 trattori e lunedì, senza una convocazione, a Roma gli agricoltori potrebbero arrivarci con i loro trattori. Aumenteremo la pressione, ci stiamo già preparando con più di 500 trattori e lunedì ci sarà una grossa movimentazione. Lunedì mattina? Lunedì. Non si può dire. Non si può dire. Derubano un'anziana con la tecnica del cartone e in tre finiscono in manette il colpo. È stato messo a segno nelle corsie di un supermercato. I malviventi si sono fatti schermo proprio con una scatola di cartone e, con la scusa di chiedere informazioni, hanno sfilato il borsello con i soldi e i documenti dalla borsa dell'anziana. All'esterno però del centro commerciale si sono ritrovati di fronte i carabinieri di Sansepolcro che appunto li hanno fermati e arrestati. E proprio sul tema delle truffe agli anziani, oggi una iniziativa nella sede a retina della CNA. Tutti i giorni qualcuno telefona per qualcosa, allora uno si è informato e è molto meglio. È importante sapere come comportarsi. Da quella del finto carabiniere al falso funzionario, ma anche online, tramite mail, sms o su whatsapp, sono decine le tipologie di truffe ad anni degli anziani. L'ultima mi è arrivata che è la famosa, quella di mamma, mi si è rotto il telefono. Cosa le hanno detto? Niente, io non ho aperto nemmeno, io non apro. Un fenomeno ormai sotto gli occhi di tutti, con numeri in continua crescita anche nella retina. E così, partendo dal già significativo titolo Non aprite quella porta, CNA è scesa in campo. Proprio un horror era quel film. Noi, le truffe agli anziani non siamo a quel livello, però è per ricordare un pochino una situazione di drammaticità, perché certe truffe mettono veramente in difficoltà le persone, soprattutto gli anziani, che si sentono inadeguati ad affrontare le situazioni. A dispensare consigli per evitare di cadere nelle trappole di malintenzionati, sono stati proprio rappresentanti delle forze dell'ordine. Allora, devono stare attenti sicuramente alle persone che non conoscono, perché purtroppo i truffatori si approfittano a volte dell'ingenuità dell'anziano che è propenso a fidarsi più delle altre persone anche con gli sconosciuti. Quindi effettivamente anche il titolo dell'incontro di Erno rende l'idea. Non aprite quella porta, poi io potrei aggiungere non aprite quell'SMS, perché anche dagli SMS e dagli eventuali messaggi WhatsApp possono derivare insomma delle truffe che riescono a carpire denaro ai poveri anziani. L'invito dunque è quello di contattare il 112 in caso di qualsiasi dubbio. Sono molto frequenti perché c'è un'abitudine delle persone che quando vengono truffate sono reticenti, quindi hanno vergogna di quello che è capitato e quindi non tendono a parlarne, ma tendono a subire. Ecco perché bisogna avere il coraggio di affrontare l'argomento anche nelle sedi istituzionali per far sì che questi metodi di raggiro vengono a cessare. La scuola dell'infanzia devastata dai vandali, l'episodio risale alla notte tra mercoledì e giovedì quando i gnoti si sono introdotti nella struttura di via Tarlati, hanno preso degli estintori, hanno spruzzato la polvere bianca ovunque. Non sono stati risparmiati nemmeno i giochi e gli zaini dei bambini. Non sarebbe stato rubato nulla, ma si sarebbe appunto trattato solo di un gesto vandalico. Oggi giorno di consiglio comunale, un consiglio che si è aperto con la protesta dei residenti di via Sicilia ad Arezzo. Due le interrogazioni che hanno portato il tema dell'antenna della telefonia per la quale appunto i residenti stanno protestando in questi giorni. Le interrogazioni sono state di Michele Menchetti, 5 Stelle, Donato Caporali del PD. I cittadini poi hanno alzato in consiglio comunale anche dei cartelli appunto di protesta contro questa antenna della telefonia. L'assessore Luccherini ha detto a giorni faremo un sopralluogo. E proprio in tema di consiglio comunale è atteso il risultato riguardo alla votazione sul nuovo regolamento per l'accesso ai servizi per l'infanzia. Vi aggiorneremo appena possibile. Adesso invece parliamo di energia. Arezzo, Enea e Estra insieme per sperimentare l'immissione di metano e idrogeno in rete. Sperimentare nuove miscele di gas naturale ed idrogeno per la rete di distribuzione. Enea e centri a società di distribuzione del gruppo Estra hanno così sottoscritto un accordo di collaborazione. Accompagniamo la transizione energetica facendo uso di un new gas come l'idrogeno che andrà necessariamente prodotto per accompagnare oltre l'elettrificazione dei consumi nel nostro paese la transizione energetica coniugando sostenibilità ambientale con quella economica e sociale. Abbiamo anche un'altra eccellenza ad Arezzo che in pochi sanno l'unico idrogeno dotto a San Zeno a servizio delle imprese che ci sia in Italia. Lo dobbiamo rivalorizzare, rimettere in funzione perché da tempo sono scaduti alcuni permessi però l'obiettivo di Estra è quello di investire sull'idrogeno, investire ad Arezzo e fare di Arezzo la capitale della ricerca e sviluppo e dare anche una prospettiva economica. Il protocollo prevede che NEA, ente di ricerca pubblico italiano, utilizzi l'infrastruttura Campoprove di Centria ad Arezzo. È importante mettere a sistema queste realtà, è importante lavorare in modo coordinato soprattutto per poter poi disporre di dati sperimentali che possono quindi conseguentemente tradursi poi in indicazioni importanti anche da un punto di vista poi degli atti normativi a seguire. La porzione di rete oggetto dell'attività sperimentale sarà progressivamente interessata da miscele gas idrogeno con percentuali crescenti di idrogeno dal 2, del 5 e del 10% nella prima fase per poi aumentare ulteriormente nella seconda. Quindi faremo delle prove essenzialmente legate a come si comportano queste miscele idrogeno e metano nei confronti della misurazione, quindi nei confronti del passaggio attraverso i contatori, come si comportano da un punto di vista della stratificazione e quindi della separazione tra idrogeno e metano che comunque sono entrambi due combustibili ma hanno delle caratteristiche chimico-fisiche molto diverse. Ed infine, sempre mettendo al primo punto la sicurezza, la sicurezza legata quindi a eventuali fughe di gas, come si rilevano queste fughe di gas in presenza di miscele idrogeno e metano. Questo è un primo passo, un primo progetto che durerà tutto il 2024, ma abbiamo intenzione di proseguire con le fasi successive nella speranza di poter arrivare prima possibile ad un possibile utilizzo vero e proprio per le famiglie e per le aziende. Rifiuti nei marciapiedi, sacchetti fuori dai cassonetti ingombranti e abbandonati nelle zone centrali e nella periferia. Ad annunciare tutto questo è Renato Viscovo, consigliere con la delega ai rifiuti all'interno di Fratelli d'Italia. Mobili, materassi, dice il consigliere, elettrodomestici e anche calcinacci. Il fenomeno appunto dell'abbandono dei rifiuti purtroppo non si placa. In totale sono stati elevati nel comune di Arezzo 497 verbali per un totale di 80 mila euro. Adesso invece ci spostiamo a San Giovanni Valdarno per parlare di opere pubbliche. È un piano che complessivamente prevede un investimento di 43 milioni e mezzo di euro sul nostro territorio, investiti su quelli che sono da sempre stati i quattro obiettivi fondamentali, quattro linee di finanziamento, direttrici di sviluppo fondamentali del nostro territorio che riguardano gli interventi sulle infrastrutture e un'attenzione particolare alla mobilità ciclopedonale, interventi sull'edilizia scolastica, mitigazione del rischio idrogeologico e rigenerazione urbana. Si sviluppano su queste quattro direttrici gli interventi del Piano Triennale delle Opere Pubbliche a San Giovanni Valdarno, adottato in giunte ed approvato nel corso del Consiglio Comunale del 23 gennaio. In questa direzione va una rinnovata attenzione alle manutenzioni con il rifinanziamento dello strumento dell'accordo quadro, un intervento sicuramente molto importante di risistemazione dell'anello viario tra i due punti, all'interno del quale si colloca anche la realizzazione del nuovo parco urbano dell'Arno, previsto dal progetto di rigenerazione urbana tra natura e cultura, e la realizzazione della passerella ciclopedonale, che finalmente creerà un collegamento ciclopedonale in sicurezza tra le due sponde dell'Arno. Gli interventi sull'edilizia scolastica con la realizzazione del nuovo plesso 06 presso la Rosae Caiani e il nido del Ponte alle Forche, sicuramente due interventi importanti in due quartieri diametralmente opposti all'interno della nostra città, però ugualmente importanti, che incrementeranno la modernità e la dotazione di strutture scolastiche sia del Bani che del Ponte alle Forche. Dall'altro lato concludo con un accenno al progetto che sicuramente sarà molto importante nel corso dei prossimi anni per la rigenerazione e la riqualificazione del nostro territorio, tra natura e cultura, un progetto sinergico di ampio respiro che è risultato assegnatario di un finanziamento importante da parte della Regione Toscana, 9 milioni e 400 mila euro che saranno spesi per la riqualificazione dei due assi viari principali della nostra città. Da un lato il centro storico con i suoi chiassi e Palazzo Corboli, che sarà il nuovo palazzo della memoria della nostra città, e dall'altro lato la riqualificazione dell'asse del Parco dell'Arno, quindi l'altra direttrice fondamentale naturale del nostro territorio che ci attraversa e ci caratterizza fortemente. E ormai trascorso un mese dall'avvio dei saldi di fine stagione il bilancio non è positivo. Siamo ad un mese dall'avvio dei saldi di fine stagione, diciamo che un meteo che non ha aiutato, ma anche un po' l'inflazione, ecco non sono andati benissimo. Sì, sono saldi diciamo un po' in linea con quelli anche dell'anno scorso, non hanno registrato grandi miglioramenti, neanche peggioramenti, diciamo siamo mediamente soddisfatti. Vanno bene nel fine settimana le vendite, nel weekend e tra l'altro nel prossimo weekend andranno anche meglio sicuramente, abbiamo la fiera antiquaria d'Arezzo, quindi saranno occasioni di shopping sicuramente e si troveranno tante occasioni. Durante i giorni feriali un po' meno, come sempre, è chiaro che i motivi per stare attenti sul fronte degli acquisti ce ne sono tanti, quindi si consuma e si acquista con prudenza. C'è un altro mese, perché almeno da calendario dovrebbero terminare il 5 di marzo. Sì, i saldi durano due mesi, quindi manca ancora tutto un mese, aumenteranno le percentuali di sconto sicuramente, magari si troverà meno scelta, ma sicuramente a prezzi ancora migliori, quindi sarà ancora un mese sicuramente interessante per gli acquisti. Sono acquisti di fine stagione, non si sa più qual è la stagione in corso, quindi con questo tempo strano, insomma, però sarà l'occasione sicuramente per rifornire un po' il guardaroba con cose nuove. Sono due le importanti donazioni da parte del Calcit all'ospedale San Donato di Arezzo e in particolare al pronto soccorso e al reparto di terapia intensiva. Supera le 100.000 euro il valore delle donazioni che Calcitarezzo ha devoluto all'ospedale San Donato a beneficiarne i reperti di terapia intensiva e pronto soccorso. Dobbiamo dire sempre grazie ai cittadini che riconoscono la nostra associazione, diciamo un'associazione che presta molta attenzione al nostro ospedale e alla sanità pubblica in generale. Abbiamo parlato di pronto soccorso e rianimazione, quindi strutture ad alta intensità di cura e di assistenza che sono gli elementi più critici dal punto di vista dell'organizzazione e dal punto di vista della necessità di tecnologie di cui noi ogni giorno abbiamo bisogno. Alla terapia intensiva è stato consegnato un ventilatore automatico, 20.000 euro il valore, considerato top di gamma nel settore della rianimazione. Un ventilatore è una macchina che serve per o sostituire il lavoro dei polmoni delle persone che hanno bisogno o per assistire, per aiutarli a respirare. Nel panorama nazionale e mondiale ci sono tante macchine in commercio, ma questo veramente è il migliore che può essere comprato in questo momento storico qua. Con ventilatori di questa portata noi medici possiamo garantire il meglio e quindi siamo facilitati nell'erogare i trattamenti terapeutici più opportuni per quel tipo di paziente. Due barelle elettriche idonee al trasporto di persone obese, un ecografo, due monitor multiparametrici ed un defibrillatore per un valore di quasi 90.000 euro, invece i dispositivi che calcita donato alla sala rossa del pronto soccorso dell'ospedale Aretino. La sala rossa è già presente nel pronto soccorso, il cuore battente del pronto soccorso è il posto dove in realtà noi si fa veramente la differenza tra la vita e la morte, è dove arrivano i codici 1, cioè i codici in emergenza e quindi è la zona appunto che ha bisogno di altre tecnologie per poter riuscire a avere questo obiettivo. Andiamo a parlare di questo fine settimana. Ad Arezzo torna alla Fiera Antiquaria, alla Casa Museo Ivan Bruschi. Ci sarà l'ingresso gratuito in linea anche con l'iniziativa del Ministero della Cultura e con le quattro sedi delle Gallerie d'Italia Polo Museale di Intesa San Paolo. Un'occasione per visitare ad Arezzo, da Pontormo a Fattori, le stanze dell'arte, un rinnovato percorso museale, opere della collezione intesa San Paolo, l'esposizione che ha appunto arricchito gli ambienti con una quadreria che presenta importanti artisti tra 500 e 800. Nel prossimo fine settimana tornano anche i corsi mascherati, la seconda uscita per il Carnevale più antico d'Italia, quello di Foiano della Chiana che poi andrà avanti fino al 25 di febbraio. Ultima uscita invece per il Carnevale dei figli di Bocco e poi ci sono Orciolaia e Rigutino. Sentiamo. Tutto pronto per il secondo fine settimana della 485esima edizione del Carnevale di Foiano della Chiana che dalla prima sfilata ha confermato il successo del format. Si parte sabato 3 febbraio con le collaterali alle 21 in Galleria Furio del Furia il Carnevale per il sociale, disabilità e di inclusione, esperienze in Val di Chiana. Domenica 4 alle 12.15 sul palco centrale invece lo spettacolo Foiano, un po' di storia e tanta filosofia di Enzo Ferraro. Nel pomeriggio tornano poi le sfilate dei quattro mastodontici, carri allegorici e gli spettacoli con i sette cervelli. Anche ad Arezzo è tutto pronto per il ritorno del Carnevale dopo la fortunatissima prima uscita, domenica 4 febbraio all'interno del Parco Ducci torna il Carnevale aretino dell'Orciolaia. A partire dalle 15 un pomeriggio di festa per grandi e piccini con spettacoli, trenini, giochi e l'immancabile musica del trio Beppe, Marco e Robi. Terzo appuntamento invece per lo storico Carnevale dei bambini di Rigutino tradizione che va avanti ormai da mezzo secolo. Domenica 4 appuntamento con divertimento, coriandoli, carri allegorici, ciacefritte e con il concorso Barbie e Super Mario. Nel borgo di Castiglion Fibocchi infine torna l'appuntamento con la storica manifestazione in stile veneziano. Domenica 4 febbraio, secondo e ultimo appuntamento con il Carnevale dei figli di Bocco, quest'anno dedicato al maestro Giacomo Puccini di cui ricorre il centenario dalla morte. Siamo allo sport, curva chiusa e stop ad altri biglietti per gli abbonati. Domenica l'Arezzo sarà senza oltre mille tifosi. La decisione è emersa ieri dopo un vertice in questura. Gli abbonati della curva Minghelli non potranno dunque acquistare biglietti per altri settori dello stadio in occasione appunto della partita Arezzo-Virtus-Entella che è in programma domenica 4 al Comunale a 18.30. Questo per la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato l'Arezzo per il petardo lanciato dal settore ospiti di Ancona lo scorso 26 ottobre che stordì un fotografo. C'è poi anche l'ordinanza del sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che prevede il divieto di somministrazione per asporto e vendita di bevande o alimenti contenuti in recipienti di vetro o latta e di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi. Nella pagina dello sport, perché appunto lei è una sportiva, il nostro servizio sulla consegna del premio Aretino, anzi Aretina dell'anno da parte del Corriere di Arezzo. Prima classificata che unisce la dolcezza alle arti marziali e è un'atleta straordinaria, Beatrice Coradeschi, campionessa europea di Taekwondo per la categoria Under 17 Freestyle. Abbiamo premiato dei giovani che rappresentano la forza della città, la forza di una comunità. Secondo noi i lettori hanno scelto veramente bene quest'anno. Nella sala Montetini la cerimonia di consegna delle targhe della tredicesima edizione del premio Aretino dell'anno, riconoscimento scelto dai lettori del Corriere di Arezzo. Una scelta dei nostri lettori perché il Corriere di Arezzo vuole avere e rafforzare sempre quotidianamente il suo rapporto con i lettori perché sono la nostra forza. L'editoria italiana sta vivendo un momento molto difficile, soprattutto quella che si dedica ai giornali cartacei. e per noi è importante consolidare quindi questo legame. Devo dire che abbiamo anche delle ottime risposte dalla città di Arezzo alla quale siamo molto legati. Siamo legati da quasi 40 anni. Il prossimo anno il Corriere di Arezzo celebrerà il suo primo quarantennale, dico primo perché l'obiettivo è di andare oltre, molto oltre, e lo celebrerà con una serie di eventi in città e nel territorio. Primo premio alla giovanissima atleta di taekwondo Beatrice Coradeschi, seguita da Fabio Franci, istruttore di motocross, e al terzo posto Alessandro Beatrice, figlio dell'indimenticato calciatore Bruno che da anni si batte per la verità sulle morti sospette nel calcio e per temi sociali, tra cui la sicurezza. Questa vittoria per me rappresenta tutto quello che c'è dietro perché comunque vuol dire che molte persone mi hanno sostenuto, molte persone mi sostengono, credono in me. Il mio sport non è molto diffuso, quindi vincere questo premio vuol dire anche aiutare alla diffusione di questi sport che comunque possono essere considerati minori perché a livello federale magari abbiamo meno testerati, però sono contenta che si diffonda il mio sport con i suoi valori grazie anche a istituzioni come il Corriere che ha promosso questa iniziativa dell'Aretino dell'Anno. Premio speciale invece ad Alessandro Dioni, il giovane studente scout che ha salvato la vita di un uomo con un defibrillatore. Presenti alla cerimonia infine anche gli altri protagonisti della top 10 scelta dai lettori. E siamo al basket terz'ultima di prima fase per l'AMNBC Servizi Arezzo impegnata domenica prossima a Lucca contro il Basketball Club. La partita è valida per il terz'ultimo turno della prima fase del campionato di Serie B che deve ancora emettere i suoi verdetti in vista della seconda fase che vedrà le squadre di questo girone incrociarsi con il raggruppamento piemontese Lombardo a partire dal primo weekend di marzo. Ed infine chiudiamo parlando di un altro bel successo della ginnastica Petrarca. Un primo e secondo posto proprio per quello che era un debutto della ginnastica Petrarca nel campionato di squadra allieve Gold. La manifestazione regionale di ginnastica ritmica è andata in scena a Campi Bisenzio e ha visto la società Aretina scendere in pedana con due formazioni che a confronto con le avversarie di tutta la regione sono riuscite a vivere appunto la grande gioia del podio. il miglior risultato è arrivato con la squadra allieve 3 che ha meritato il gradino più alto del podio tra nove formazioni di tutta la Toscana. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e arrivederci.